Musica Stefano, di la verità, com'è stata la Cree nella sua prima lezione di piloxing? Pazzeschissima, picchiato da Duri proprio, da Duri. Quindi Duri mi piace, mi piace da Duri. Tra le tre discipline che Stefano ricordiamo sono? Boxing, standing pilates e dance. Qual è quella dove ha reso meglio la Cree? Fammi pensare, fammi pensare! Boxing! Il masco che è in me è uscito fuori! L'intervista a fine lezione invece che a inizio lezione, quindi ti vediamo un pochettino provata! Stanca morta! L'ultima volta che avevi fatto sport, correva l'anno. Ma 15 anni fa! Stai scherzando? Stai scherzando! Quindi da 15 anni in nulla? Beh, a parte il beach tennis, l'estate, poi ho avuto l'incidente e quindi sono fermata anche con il beach tennis. Io vorrei essere in forma senza fare nulla. Perché di base per te è un sacrificio. Cioè non è un po' un piacere, un godimento, uno scarico di tensione. Questo perché non ho mai iniziato e non sono stata costante. Forse è la costanza che mi manca. Se fossi costante probabilmente li appassionerei e poi potrei non farne più a meno, capito? Ma quella fase non l'ho ancora provata, chi non lo sa! Serve qualcuno che come me ti tiri un po' in mezzo, giusto? Sì! Devo capire cosa è più giusto visto la caviglia, visto i chiodi. Ma ecco, raccontaci un po' cosa è successo. Avere dei chiodi e una caviglia, Paola. Mi si è praticamente girata la caviglia sulla sabbia, mentre facevo beach tennis. E quindi niente, frattura scomposta, intervento, sei chiodi e la placca. Ai 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 ai. Quindi alcuni esercizi è meglio che tu stia un po' attenta. Sì! Entriamo proprio in un concetto del benessere secondo la Quaranta. Ah sì, il grande benessere è mangiare solo la pastarola, quindi mangiare sempre la pasta. Neanche tanti dolci, ma la pasta per me è fondamentale. Mi piace tanto dormire e mi piace tanto fare sesso. Anche quella è una forma di esercizio, assolutamente sì. Devo fare tanto sesso. Che rapporto hai tu con te? Ah, bellissimo. Amo stare sola. Bello. Mi piace stare sola come mi piace stare in compagnia. E da sola sei una che ama leggere e ascoltare la musica. Qual è il tuo momento di genere? Sì. Mi piace anche stare sui social. Mi piace, non so, andare su Google, guardare video. Va a vedere il muscolo del braccio. Oh la la. Oh la la. Funziona, Pilopsy funziona. Immediatamente. Sleep sexy and powerful. Oh eee. Brava.